Nella giornata dell'8 marzo, tavola rotonda a Palazzo Baronale per discutere di disturbi del comportamento alimentare. Un incontro fortemente voluto dall'amministrazione comunale, in particolare dall'assessore Annarita Ottaviano e dalla consigliera Carmela Pomposo, con la partecipazione anche delle alunne dell'Istituto Degni di Torre del Greco. Nella giornata dell'8 marzo, qui a Palazzo Baronale, si parla di una tematica molto importante, quella dei disturbi del comportamento alimentare. Abbiamo voluto iniziare questo mese di marzo con questo argomento, perché è l'argomento più scottante all'ordine del giorno, soprattutto tra i ragazzi. Abbiamo ricordato in modo particolare le donne iraniane, ucraine, afghane, che nonostante la lotta non riescono ancora a conquistare i propri diritti, i diritti di ogni mamma, di ogni donna che aspettano a tutte noi. Abbiamo scelto questo argomento perché il 15 è la giornata del Fioccolilla, ma il mese di marzo è anche il mese della prevenzione e quindi nel momento in cui c'è attenzione alla prevenzione e alla salute abbiamo voluto incominciare dei giovani. Noi siamo presenti sul territorio con questi convegni, che vogliamo mettere fuori la nostra disponibilità e il nostro aiuto per chi ha questi problemi. Il pubblico a cui si rivolge il convegno è un pubblico giovane di studentesse dell'Istituto Degno di Torre del Greco. Sì, l'Istituto Degno di Torre del Greco, oggi il 15 abbiamo un altro istituto e abbiamo trovato proprio una disponibilità da parte dei dirigenti scolastici per partecipare a questi nostri convegni. Quanto è importante sensibilizzare i giovani su queste tematiche? È importantissimo e noi come scuola abbiamo il dovere, l'obbligo e la responsabilità di accompagnare i nostri ragazzi e le nostre ragazze ad una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e dei propri punti di debolezza e soprattutto insegnare loro a dialogare con se stesse per riconoscersi, per accettarsi e soprattutto percepire la vera bellezza che non è necessariamente legata all'aspetto fisico ma è una bellezza interiore. Come educatori voi avete un ruolo e una responsabilità molto grande ma per affrontare questi problemi è importante la rete. Il quadrilato educativo a cui io mi riferisco sempre è fondamentale, la scuola da sola non può certamente intervenire sulle problematiche dei nostri ragazzi e i nostri ragazzi sono ragazzi pieni di emozioni ma purtroppo con difficoltà a manifestarle e soprattutto a riconoscerle e che allora abbiamo bisogno di tutto ciò che può aiutare gli enti locali, l'associazionismo, l'ASL, i sportelli psicologici e tanta pazienza e tanto amore. Un momento di riflessione e confronto con gli esperti del settore. Come aiutare chi ne soffre a capire il problema? È fondamentale essere presenti e cercare di comprendere qual è il disagio che in quel momento il figlio, la figlia principalmente sta vivendo e poi soprattutto chiedere supporto a specialisti. Quali sono le branche specialistiche deputate proprio ad affrontare la problematica? I professionisti sanitari che si possono occupare di questi disturbi sono tanti, dallo psicologo allo psichiatra, al medico internista, al nutrizionista. L'importante è che qualsiasi professionista sanitario a cui ci si rivolge sia specializzato nel trattamento di disturbi alimentari. Qual è oggi l'incidenza di questi disturbi? L'incidenza è molto elevata, consideriamo che i disturbi del comportamento alimentare sono la prima causa di morte per malattia negli adolescenti, secondi solo agli incidenti stradali. Quindi è evidente che parliamo di patologie che nascono come patologie psichiatriche, dunque mentali, ma che poi attraverso pensieri, emozioni e comportamenti disfunzionali provocano importanti alterazioni fisiche a carico di tutti gli organi. I giovani hanno bisogno di comunicare le loro difficoltà, di comunicare le loro esperienze e la scuola e le istituzioni devono dimostrare di essere accanto alle giovani generazioni per affrontare insieme a loro i problemi del comportamento alimentare. Disturbi legati alla esigenza di riconoscere la propria identità, di affermare la propria personalità in una società ancora troppo piena di stereotipi e pregiudizi di genere.